Farete l'abbonamento? No, no, devo farlo perché sono tifosi del Bari e ho bisogno che la squadra va su, va su, va su. Siamo qui con Sabino, portiere di lavoro, portiere anche nella vita? No, no, difensore, grazie. Che cosa ne pensi? Farei l'abbonamento quest'anno? No, l'abbonamento no, però miglietto perché no? Ti piace il Bari che sarà, nuovi acquisti possibili che possono? Sì, lo vedo molto più serio, la società, lo vedo molto più serio, perché no? Allora, che cosa ti aspetti da questo Bari? Il Bari voglio inserire e fare una bella squadra, io faccio il primo l'abbonamento, io ero tifoso del Bari, poi quando il Bari è andato così e così, quest'anno faccio l'abbonamento. Farete l'abbonamento? Non credo, però andremo a vedere molto volentieri le partite.